Benvenuti a questo primo appuntamento elettorale in vista delle prossime elezioni del 4 marzo prossimo. In questo primo incontro abbiamo ospitato un personaggio con radici dell'alto casertano, già sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, che è candidato nel listino proporzionale di Forza Italia. Gli abbiamo chiesto subito quando hanno influito i suoi guai giudiziari noti a tutti, poi risolti perché è il risultato estraneo ai fatti. Sentiamolo. Hanno influito perché non mi sarei candidato probabilmente per paura da un lato, dall'altro però hanno influito positivamente perché io ho una rabbia in corpo notevole, quindi una voglia di riscatto e di rivalza. Il popolo, gli amici, la gente mi ha testimoniato un amore infinito ma già in quei tristi momenti e adesso voglio andare avanti e quindi voglio impegnarmi per il mio territorio. Io ho combattuto in questi mesi da un lato la mia famiglia che non voleva assolutamente, dall'altro io che invece sono malato di politica, a me piace girare i territori. Poi in particolare questi territori qua, la mia famiglia è di Dragoni, quindi voglio dire io ho avuto studio qui. Nel bene e nel male quella è stata un'esperienza che però mi ha rafforzato anche il convincimento che poi alla fine lo Stato esiste, detto da me che sono stato arrestato senza sapere perché, insomma, penso che sia un bel messaggio. Lo Stato esiste perché i giudici avevano sbagliato, se ne sono accorti e sono stato anche fortunato perché la mia vicenda è stata completamente archiviata in pochi anni. A volte ci stanno i processi che durano vent'anni. Abbiamo parlato anche un po' di competenze politiche in un panorama con molte e troppe volte fatto da personaggi improvvisati e quanto conta essere stato già sindaco di una grande città come Caserta? Io penso che dovrebbero stabilire per legge che se non hai mai fatto il consigliere comunale, manco il sindaco, tu non puoi fare del parlamentare. Io penso che sia fondamentale perché chi assume carichi così importanti deve sapere che è una delibera, che cos'è una determina, che cos'è un mandato, anche perché il parlamentare, voglio dire, deve fare le leggi. Questo è il ruolo del parlamentare. Quindi se non comprende il diritto amministrativo, se non conosce le cosiddette carte, non può andare da nessuna parte. Io so che cosa serve ai sindaci e so quanto è brutto quando tu sindaco hai un problema e nessuno ti ascolta, perché i parlamentari dei nostri territori non hanno brillato negli ultimi anni per capacità di ascolto. Quindi io credo che un sindaco parta molto avvantaggiato perché sa dove deve andare a mettere le mani. Questo è importante. Sicuramente nel suo programma elettorale ci sono tantissimi argomenti. Ce ne dica almeno due tra i più importanti e che vuole affrontare subito in caso di una sua vittoria elettorale. Allora io ho la propensione ad essere consigliere comunale a vita. Ora sono candidato al Parlamento quindi non vi parlerò della flat tax, di questi temi un po' alti che sono lontani, come dire, dalla mia famiglia, dal vostro territorio che è anche il mio territorio. Io credo che il tema fondamentale è il territorio. Girando la provincia noi abbiamo strade piene di buche, abbiamo promesse fatte da De Luca tipo le Coballe che stanno ancora là e soprattutto abbiamo, io ne parlavo con qualche amico e parente qui della zona di Dragone, abbiamo dei paesaggi e un mondo da sfruttare che non viene sfruttato. Quindi dico una banalità ma è mettere in rete tutte queste bellezze culturali, turistiche, la Reggia, il Matese, il litorale Domizio, capo all'anfitrato romano, penso che sia, anzi chiedo scusa, sto dicendo una scemità perché è ovvio, ma però nessuno l'ha mai fatto. Ecco il sindaco, il sindaco del comune di Casette, il sindaco spesso capofila dei vari comuni del territorio e quindi io mi ricordo che quando ascoltavo gli altri amministratori i problemi erano sempre questi. Quindi io credo che prima di tutto per il territorio lavorare sul turismo e sulla cultura perché il problema fondamentale che noi abbiamo oggi è il lavoro. Allora è inutile che noi ci mettiamo a promettere strade, ponti che solo per progettarli ci vogliono due anni e per realizzarli ce ne vogliono cinque. Io se eletto avrò finito il mio mandato e quindi non servirà a niente. Io credo che si debba lavorare bene sul turismo e sulla cultura avendo come protagonisti gli amministratori locali perché se non si hanno come protagonisti gli amministratori locali si corre il rischio di fare leggi che piovono dall'alto come per esempio è avvenuto col piano ospitaliero, togli i posti di letto da qua, poi li metti a un'altra parte, poi li togli da Casetta, li togli a piedi in monte ma li metti sul napoletano. Cioè scelte fatte in modo molto molto casuale. Giusto per chiudere, molto sintetico, che cosa vuole, qual è il messaggio che dà ai suoi elettori? Il messaggio è mi conoscete, grazie a Dio per le vicende tristi ma anche per il ruolo che ha avuto, io sono conosciuto. Ecco io sono uno di voi, sono una persona che si può incontrare sempre, che è disponibile, che è per bene come tutti e che ha le idee soprattutto chiare. Bene è tutto per questo primo appuntamento, alla prossima, sigla!